Beh, c'è da guardare al futuro con magari più di serietà, continuare a lavorare perché dobbiamo arrivare al fine in maniera più che decorosa, anzi bisogna fare dei punti, bisogna superare la quota dell'anno scorso, bisogna fare meglio dell'anno scorso e dell'anno prima e quindi tutta l'intenzione di fare bene fino alla fine. Beh, diciamo che tutte le partite vorremmo giocarle in questa maniera però purtroppo non riesce sempre, come chiunque naturalmente. Oggi è andata bene, godiamoci in questo momento, siamo già alla Roma, è la pausa, vogliamo fare bene fino alla fine e lavorare. Per me non è un problema, nel senso che siamo qui anche per questo, per prendere dei nomi, non è un problema per noi, personalmente non ci penso neanche, non è quella di qui giornale, mi sono staccato da queste cose perché purtroppo se ne dicono di ogni, anche chi magari ha meno competenze, parla, quindi guardiamo avanti, pensiamo al nostro gruppo e cominciamo a lavorare. Beh, mi trovo molto meglio perché magari ho più libertà, però se il mister ha bisogno di tornare a quattro oppure farci scivolare anche per l'altro che non c'è in situazione. Stiamo lavorando sia da un lato che dall'altro, ne parleremo in un momento giusto. D'un lato e dall'altro vuol dire sempre con le tinte rosso-blu della tua squadra. Stiamo lavorando, certo. Grazie a tutti.